mercoledì 7 febbraio santa catarina di tocimilco 2500 metri d'altezza in messico sotto il vulcano popocatepel lo vedete lassù che si stadia nella foschia della tarda mattinata da tre ore sono cominciati i lavori di demolizione della scuola gravemente lesionata che specchio dei tempi donerà a questa popolazione a questa povera gente che da settembre scorso sta soffrendo una vita difficile proprio perché molti degli edifici di questa di questa comunità sono stati danneggiati primo fra tutti la scuola la scuola che grazie alla sottoscrizione lanciata dalla stampa fra i lettori potrà essere ricostruita nel giro di pochissimo riteniamo che già fra agosto e settembre i bambini potranno tornare potranno ricominciare a frequentare questa questa scuola vedete la pala meccanica del caterpillar che sta lavorando lì alle nostre spalle per demolire questa scuola che ripeto gravissimamente lesionata dal sisma del 15 settembre specchio dei tempi donerà a questa povera comunità messicana a questa povera comunità messica Grazie a tutti.